Come stai? E' una domanda che ormai la gente non usa più Preferisce stare ore nel letto e chattare con qualcuno mai visto Oramai qui la gente si vende anche l'anima su Facebook Non esiste più una stretta di mano Ho una parola dolce quanto non ti amo Aiaiai mi sembra di sentire i miei nonni che ridono da lassù Per questa generazione da salvare Che non conosce neanche l'arte di corteggiare Ora abbiamo ardenti dividi che dicono così Cercasi donna ventenne ignorante con un pensiero divino Da farci un bambino mi piace l'amore Ma quello virtuale non sono normale nemmeno un maiale Però la voglio bollente perché non provocante Che si faccia le foto nel bagno di casa Che imposta il tuo muso con un finto sorriso Quelle donne che non sanno nemmeno più cucinare Ed io laverò sempre di più E lo scriverò in prima pagina su Facebook Io darei tre anni del mio futuro Per vivere un giorno negli anni del tante Per andare ad un concerto di Faber O sentire la chitarra di Jimmy Oramai tutti bravi cantanti Basta un selfie col sentire per fare bom bom Poi li vedi suonare dal vivo E dici cazzo ho pure pagato Ai 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 mi sembra di sentire Ancora i miei nonni che ridono da lassù Per questa generazione da salvare Che non conosce neanche l'arte di corteggiare Ora abbiamo a dei bimbi più che dico così Cercati donna, ventenne ignorante Con un pensiero divino Da farci un bambino Mi piace l'amore Ma quello virtuale Non sono normale nemmeno un maiale però La voglio bollente perché non provocante Che si faccia le foto Nel bagno di casa Che imposta il tuo muso Con un finto sorriso Quelle donne che non stanno nemmeno più lucinare Ed io l'amerò Sempre di più E lo scriverò In prima pagina su Facebook Oh 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 La 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 Grazie a tutti